Buongiorno bravo Salah eeeh tira come uuuh uuuuh 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 uuuh uuuuh 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 Sì, che fuori. Dai, grande, sempre... Ottro salato! Sì! Ancora! È colpa di salato. Signato. Sì. Ora o no? Dai, grande! Dai, grande! Dai, grande! Dai, grande! Tira, stavate! Dai, grande! Vado! Dai, grande! Dai, grande! Ai, robbi in margine! Dai, Mattia! Andiamo! Da solo! Mira! Ma come hai fatto? Vai così! Dai! Dai Albi! 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 Tira, 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 alti! Non ci credo. Chi ha segnato? Nemis. Nemis ancora? Dai, non c'è! 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 Dai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Gabri! Dai ancora, Gabri! Dai, tira, 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 tira! Bravo, bravo, dai! Dai ancora! Aiutatelo magari perché... Cioè... Dai! Porta! Ok! Dai! Dai, dai Ale! Dai Ale! Dai Ale! Bravo! 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 Dola! Tiada, bekommen now! seta mon Abbate ... sei!